Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio canale. Io sono Loris e sono qui per presentarvi il nuovo progetto timbrato la cloaca di CTR, non è l'arena piccola. Da che cosa nasce questo progetto? Prima cosa non è un'idea mia ma è un'idea di Alessandro Caloppini, le grafiche sono curate da Serena Dini ma nonostante ciò il progetto è realizzato interamente da me. Quindi questo format praticamente nasce per dare un'idea, una voce a tutti gli esponenti della community italiana e non di CTR e di CTR Nitro Fueled. Quindi cercherò di fare entrare tutti i giocatori di questo mondo magnifico nelle vostre case. Io spero che vi strapperanno un sorriso e perché no vi faranno scoprire anche persone che nonostante ciò magari conoscete soltanto per Nick ma che invece dietro di loro ci sono delle storie che io spero di riuscire a portare qui sul mio canale. Quindi mi raccomando di non mancare al primo appuntamento che sarà con il nostro fantastico Francesco Orsato a.k.a. Ketchoke. Io non voglio dire più niente, qualsiasi novità la trovate nel nostro gruppo di Facebook la cloaca di CTR e niente ragazzi. Quindi proviamo sempre a portare il meglio per questo gioco perché è un gioco che merita e poi alla fine mi direte voi il progetto comandato. Un saluto a tutti.